Ecco sì sì, tenga pure il resto, tanto sono piena di soldi, non me ne faccio nulla, grazie, grazie signorina, arrivederci, grazie Steph, dimmi Sei tu? Sì? Cosa stai combinando? Niente Cosa stai combinando? Niente, niente, vieni, vieni Perché non mi puoi uscire dal negozio? Eeeh, perché ho deciso una cosa No, mi devi dare una bella motivazione, perché questa cosa non mi piace, Steph, non mi piace per niente Dovevamo iniziare a registrare il video Ti sei messa come sempre a comprare nuovi vestiti, mi fai aspettare i dieci minuti, mi rompo le scatole, quindi oggi ho deciso di protestare Cioè, e ti sei messo pure il vestito da Jason per incutere timore, cioè che vuoi fare? Sì, 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 esattamente Ti sei dimenticato di vestiti Esatto, esatto, però Ascoltami bene, sei chiusa lì dentro e non puoi uscire in nessun modo E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E sono Steph, e adesso giochiamo a GTA V E oggi non giocheremo a GTA V Perché, Feren? Perché mi hai chiuso in un negozio, quindi come posso giocare a GTA V, Steph? No, no, ti sbagli, ti sbagli, oggi giocheremo come? No! Questa volta giocheremo a GTA V, ma in modo molto particolare E soprattutto si divertirà prevalentemente, Steph Io credo che è divertimento per Fereniki, questo oggi ci sarà poco e nulla Perché non ti posso dare i pugni attraverso il vetro? Perché la cosa bella di questi negozi è che non puoi in nessun modo utilizzare armi o fare azioni E quindi ne ho approfittato per chiudirti dentro Allora, Fereniki, funziona così L'unico modo per essere liberata e per poter tornare a giocare a GTA V E salire come macchina E fare tutto quello che ti ordinerò di fare Però, aspetta, Steph, c'è una falla nel tuo piano Sì Se io adesso accetto Sì E tu mi liberi, posso uscire e ucciderti e finiamo così? Perché? Perché lo... Non c'è un contratto scritto Aspetta Scrivi un contratto e lo firmiamo Perché sennò qui non va bene Devo... Torno subito Da... 20 secondi, Fereniki, scusa, mi sono indicato una cosa Se tu ti ribellerai Questo fantastico Eevee che ti sei comprata ieri Scomparirà Steph, l'ho comprato e pagato, scusami Quindi è mio Ok, sono d'accordo Ma se tu... È un Eevee sorridente e non gli puoi fare male Guarda, lo sta sorridendo Non si può far male un Eevee Io l'ho comprato solo perché stava sorridendo Quindi mi stai facendo arrabbiare, Steph Io prendo il tuo sindaquil Perché lui si è comprato sindaquil Io lo voglio dire E lo brucio Allora Fereniki, al tuo Eevee non succederà nulla Finché rispetti le regole Il tuo Eevee potrà stare tranquillo Sì, vediamo se l'ho lanciato al balcone Cosa succede Quindi, esci fuori Forza Ok Fereniki Aspetta, devo fare una cosa Non me la fa fare Che cosa? Ecco, a posto Ok, ti sei sfagata Sei tranquilla E sei pronta Ok Allora, io voglio spiegare ai consolini cosa farò Perché mi sembra giusto spiegarglielo Praticamente riprenderò un pochettino il gioco di The Floris Lava Però a modo mio Quindi a modo di Steph Ovvero, come quando io urlo The Floris Lava L'altra persona deve salire da qualche parte In questo caso io ordinerò delle cose E Fereniki le dovrà fare immediatamente 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 Mi sono incartato Ed è molto triste questa cosa Voglio fare un esempio Fereniki, scendi dalla macchina e pesta quella tizia Ma lo volevo già fare Dai, non vale Ci stavo già pensando Ma è per fare un esempio Esatto Perché questa è la più antipatica Andiamo Ok, risali Polizia? No? Tutto a posto? No, perché era giusto picchiarla Dai, aveva una faccia da schiaffi e se le meritava Quindi, noi adesso ce ne andiamo in città Io posso fare quello che voglio Andare dove voglio E dovrò obbligare Fereniki A fare diverse cose Fereniki, sei contenta di questo gioco? No No? Dammi il mio ivi Non te lo ridò Ho comprato ieri Non l'ho ancora aperto Andiamo nella nuova casa, Fereniki E appunto Deve restare lì Chiudo, chiuso, chiuso Perché non devo aprire In ogni caso abbiamo messo le foto su Instagram Seguiteci su Instagram Link in descrizione di Instagram Seguiteci su Instagram Perché mettiamo foto su Instagram E ho tamponato un tizio Allora Consolini Pensiamo un po' Possiamo ordinare qualsiasi cosa, Fereniki Che cosa le ordiniamo di fare? Qualcosa che lei non vuole fare Beh Direi che l'abbiamo trovata La minimappa mi ha dato l'ispirazione E io l'ispirazione la accetto sempre più che volentieri No Non l'hai ancora capito? Fere Sto già scappando Fere Non ci provare Non ci provare Mi hai rotto le scatole Non mi cambio i capelli Mi piacciono molto Guardami Non pasticciare la scatola Che odio le cose pasticciate Allora smetti di ribellarti Sto sorridendo Non lo puoi attaccare Sono crudele, Fere Sono una persona terribile Quindi contieniti Dove cavolo è l'ingresso? Tef, mi sto perdendo Dove siete? Non male che il suo punto tempo le vivi Ah qui, ok, perfetto Ok Allora Che devo fare? Siediti pure E mi sto già sedendo Guarderò il tuo schermo E sceglierò una pettinatura Che poi loro vedranno Direi Ma pettinatura o colore? Eh, no Pettinatura Consolini guardate Avrei preferito quella afro No, aspetta Visto che sono ridicola A questo punto Mi li coloro pure Sai com'è Almeno diamo un tocco Ma stai peggiorando da sola Originalità Stai zitto Fa tutto da sola Vabbè Vabbè Sì, sì, sì Voglio vedere Tipo questo viola È un bel colore Vai Eh sì Eh sì Ma chi mai vorrebbe Questa pettinatura nel mondo? Non lo so Non lo so Chi mai la vorrebbe? Non me lo chiedere Per fortuna che hai il capello Ringrazia Esatto Anche se si intravede abbastanza Guardatela Solo nella nuca si vede Solo nella nuca Sì, un pochettino si vedono Ok, Fere Hai assaggiato Ti è divertito? Sì, moltissimo In macchina si vedono, Steph Perché si leva il cappello Perché te l'ho detto? Molto, molto, molto belli Ok, allora Te li faccio fare Guarda, quando dormi Io compro la tinta viola Te li raso E poi ti tingo i capelli Ho pensato alla cosa più crudele da fare Ma la faremo dopo Ok, sarà l'ultima cosa Di questo video E sarà Guarda che non bastasse Se i capelli non sono nulla a confronto Ok Colpirò proprio la cosa che più ami Va bene E cosa? Allora, io non mica te lo dico adesso Per ora Dobbiamo divertirci un pochettino Però ti voglio far fare delle cose un po' più rapide Ok Ok, quindi devo ragionare Su che cosa farti fare? Fere, vedi qualcosa che ti intriga? Che vorresti fare? No, ovviamente non ti dico nulla Sei sicura? Sì, sono sicurissima Ok Allora ho un'idea Io mi fermo qui Hai cinque secondi per correre dritta Dopodiché inizio a spararti con un fucile a cechino Ma perché? Boh Non ha senso Acchiappa la ferinichi È brutto Corri! Dai Steph Vai Ti ho preso? Sì E mi hai investito un'auto Però non mi Non mi potevi prendere dopo che mi hai investito l'auto Non mi potevo rialzare in quel momento Solo tu devi rispettare delle regole Sì, ma non fa ridere Non fa ridere così Steph Non è divertente neanche per te Non sei originale No, non lo sei Poterti maltrattare E sparare come quando voglio Non è divertente Dopo la challenge che abbiamo fatto Di rubare in tutti i market Ok Ci sono i negozianti che ci odiano Proprio hanno messo i poster nei loro negozi Non è vero Wanted con la tua faccia e la mia faccia Lo dici tu Steph Ci crediamo tutti Quindi io ho pensato una cosa Mi sembra giusto che loro possano avere la loro vendetta Ok Quindi? Entri dentro Lo fai arrabbiare E ti fai sparare Sarai la prima persona Ad essere stata ammazzata Dal tizio che vende le cose Non è vero Guarda che a volte ti ammazzano anche se provi a rubare Ma se rimango minacciosa non mi fa niente Gli devo dare un pugno Devo dare un pugno Purtroppo gli devo provocare la Cosa è successo? È scappato qui dietro Dov'è? Dov'è? Guardalo Steph E tu mi vorresti sparare da sto qua Gli ho dato solo un pugno Guardalo Guardalo Sta piangendo Sta piangendo Steph L'hai fatto piangere Sei felice che l'hai fatto piangere? Allora Sei felice Steph? Dannazione abbiamo pure la polizia E certo Perché l'hai fatto L'hai fatto rimanere male Vabbè Aspetta Ok Vieni fuori Fere Ma sta di nuovo piangendo Steph Devi andare a costituirti No sta scappando Perché hai fatto piangere una persona Vai dalla polizia Mi faccio sparare dalla polizia E costituisciti Vai È stato tristissimo Questo è quasi un si può fare Fere Perché molti consolini questa cosa secondo me non la sanno Ok E adesso te la farò vedere E sarà davvero umiliante Cioè questa qua proprio Tu non potrai più essere rispettata in GTA 5 No allora al momento Io ho preso quest'arma E tu mi hai fatto buttare a terra Cioè proprio scaricare Sparando in terra Dentro un cespuglio Tutti i colpi 250 proiettili Che mi dovrei rimborsare Alla fine di questo Va bene Entra dentro il market Rimetti quest'arma scarica Ok Mira sul venditore Ok aspetta che faccio il giro qua Eccomi qua Spara Questo non ha pianto No non si è offeso questo Perché spari Capisce che scarica E quindi reagisce anche abbastanza in fretta Se le prese anche con me Eh vabbè Dai perché tu eri complice Riliacchi Allora Questa è un'altra cosa divertente Voglio dirla Poi continuiamo il nostro video Dove ti obbligo Ok Cioè se tu dai un pugno Non tira fuori l'arma Se tu gli fai capire Che la tua arma è scarica Invece sì Non so perché Chiama il meccanico Ok E fatti portare La macchina Che è l'amore della tua vita No non la vendo tanto Ah tranquilla No non la vendo Non serve a nulla Venderla Non c'è bisogno Ascolta non la vendo Perché è costata qualche milione Quindi non posso Non mi ricordo qual è però Dove è parcheggiata Come fai a non ricordarti Il nome dell'amore della tua vita Scusami Eh sì è proprio bella Questa macchina Vero Non rispondo Mi riservo della facoltà È proprio bella Sarebbe un peccato Se qualcuno sbattesse Così all'improvviso Ma quello io lo faccio sempre Non è niente di strano Lo so Lo sbatto sempre Però Infatti per ora è soltanto Farti soffrire un po' Perché la rovino Ma poi la posso riparare Quindi non è un problema Infatti Guarda dove ho messo il segno Finché si può riparare Dove stiamo andando? Io non ho più voglia E fa sto video Smettila Non la tocchi Stef No non la tocchi Questa Altrimenti guarda Io entro Io posso entrare Dal tuo pc Quando tu dormi Ok Ti prendo tutti i veicoli E tutte le tue proprietà Te lo faccio eh Io ti cancello il personaggio Vediamo chi vince Non me ne frega nulla Me ne faccio un altro Vogliamo vedere chi vince Me ne faccio un altro E ti disinstallo Anche GTA Che ci vogliono 15 giorni Per riscaricarlo Nel caso vedranno Un video dove Ivi brucia Tu bruci E nel caso Sarà su Instagram Quindi vedete Consulini Dovete seguirci su Instagram È importante Mettila di pubblicizzare Instagram Che non ha Steph Non vedete Ivi che brucia Scusate È importantissimo Non seguite Steph Su Instagram Perché è una brutta persona Anche te Ci sei anche tu E vabbè Ma io sono una bella persona Però essendo che ce l'abbiamo insieme Preferisco che non seguano a te Capito Ok Ma che bella Questa auto Fere Ma è proprio bellissima Ma dove ne hai trovata Un'auto così bella Fere È la tua tomba Steph Quella che tra poco faremo E metteremo nel cimitero Sei felice? Ma mi sembra che sei felice Di quest'auto Non era l'amore della tua vita? Fatti investire Ti stai facendo arrabbiare Ti sto umiliando Mi spara Adesso la vendo Non la voglio più Fere La butto via Non fare scemenze Ma le vado senza di te Nessuno deve vedere l'auto verde Che brutta verde L'hanno vista tutti ormai Addio Povera Nel video della challenge Era così fiera Di farvela vedere Con Solini Non vedeva l'ora Guarda ci rispendo soldi E la rifaccio uguale Tanto vi ricordo esattamente Quello che aveva Guarda finirà presto Sì però Fere Finirà presto Tutti quando la vedranno Finirà presto Hai capito? Finirà presto Si ricorderanno Di quel momento In cui era verde E anche io mi ricorderò Del tuo sangue Qui nel cofano anteriore O come si chiama Della mia auto Allora forza È il mio trofeo migliore Dobbiamo andare a fare Un'ultima cosa Vai L'ultima eh Perché mi stai facendo arrabbiare Prima di tutto Lo decido io Perché cioè Se io premo Per entrare Il mio personaggio Corre alla macchina Più vicina Perché non accetta più La tua auto È talmente brutta Che se ne stavo andando In questa utilitaria Bruttissima Parcheggiata lì Pur di non prendere questa Va bene Ok Dato che questa è l'ultima cosa Sarà anche l'unica cosa Che non potrai togliere Quando finirà questo video Cioè Questa cosa Che ti obbligherò A fare adesso La dovrai tenere Ok Va bene Ed è un tatuaggio Vabbè i tatuaggi Poco male Lo so Mi piacciono Quindi ne ho già tanti Però diciamo Che ne sceglierò uno Davvero osceno Ok Ok Mi hanno messo I tatuaggi da pirata Sono strabelli Ma questo me lo faccio io Allora Meglio questo Lo scheletro comandante O meglio la nave Con il kraken Stef non è il momento Di decidere il tuo tatuaggio Però eh No sì Fede è importantissimo Eh Quella la nave Vero È più bella Sì Boom Comprato Stef è bruttissimo Lo so Beh è per sempre Fede Deve essere brutto Ma fa paura Cioè io Fede Pensavo qualcosa di figo Lo so Però è brutto Fa paura Appunto Vabbè È andata Tanto non si vede Nella pancia Capiterà delle volte In cui quella pancia Sarà fuori No 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 userò sempre magliette lunghe Quindi va benissimo Quando ti cambi Quando fai la doccia Lo vedrai sempre quel tatuaggio No non penso proprio E soffrirai Oh non volevo guidare Vai guida tu Com'è stata questa esperienza Fede ti sei divertita Ti è piaciuta No 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 non mi voglio esprimere Allora voglio fare una cosa Basta Ci tengo No 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 Abbiamo finito Abbiamo finito La tortura Sono soddisfatto Mi sono divertito tantissimo A fare tutte queste cose Nessuno si è divertito E adesso voglio fare una cosa Metterò un sondaggio Ok Ok I consolini potranno votare Se anche tu Potrei vendicarti E fare la stessa cosa A me Sì però allora Questo Se poi decidono di farlo Mi devi avvisare Con largo anticipo Ok Perché mi farò Una bella lista ben pensata Non lascio le cose al caso Come hai fatto tu Ok Perché sarà 3000 volte peggio Steph Ok Ok Va bene La lista ben pensata Con largo preavviso Ok vabbè Tanto uscirà il video Ci sarà il sondaggio Vedrai come va il sondaggio E potrai nel caso Confabulare E decidere che cosa fare Ok Quindi i consolini Hanno in mano Il mio destino In poche parole Perché immagino Che non uscirò vivo Da una cosa del genere Esatto Esatto Non avrei più neanche GTA Guarda non l'aprirei mai più Dopo che Dopo che facciamo la cosa inversa Steph In ogni caso Ci vediamo così Speriamo che questa idea Un pochettino stravagante Vi sia piaciuta Speriamo che il video L'abbiate apprezzato Nel caso Ricordatevi mettere tanti likes Scrivete tanti commenti Con idee Per torturare l'altro Dato che appunto Potete suggerire Un pochettino di cose Nel caso Aiutatemi Consolini Votate appunto Per il sondaggio Consolini Armi 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 con la Y Per reclutarli Capito No era per specificare Sennò poi non capisco E niente Ci fermiamo così Con questa bellissima Autoverde Il tatuaggio Che Ferry Si dovrà tenere per sempre Grazie Lasciateci un like Se la prima volta Capito il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!